Toc toc, i cinesi stanno arrivando e mo' sono ca... In questo video di Automoto parleremo di BYD. Ormai conosciamo BYD, soprattutto dopo il Salone di Parigi. Ci siamo approcciati a questo nuovo costruttore automobilistico che poi tanto nuovo non è. Dietro la sigla BYD si cela un nome che è Build Your Dreams, ma questo costruttore non è uno dei tanti cinesi improvvisati che arriva per assaturare il mercato con fantomatici prodotti, ma si tratta di un'azienda che da sempre costruisce batterie. È un fornitore di Tesla e soprattutto tra le sue prime tecnologie ha le batterie lamellari, quindi doppio della densità energetica rispetto alle batterie tradizionali e molta più sicurezza, tanto che si possono perforare e non succede niente. L'abbiamo visto i suoi prodotti durante il Salone dell'Auto di Parigi. Sarà molto interessante vedere la BYD Atto 3, si chiama così la macchina da volume di BYD, ma oggi siamo qua per parlare di un prodotto appena presentato insieme a una supercar di cui ora non mi interessa nulla ed è paurosamente pauroso, perché vedere un prodotto del genere con queste potenzialità mi ha fatto capire che per noi è letteralmente finita. In un mondo dove l'elettrificazione, in posto o meno, ha la strada spianata, soprattutto in Europa, e favorisce l'ingresso di player asiatici, ci rendiamo conto che la vera rivoluzione nella costruzione di un'auto si fa via software. Ormai il know-how motoristico non serve più a nulla, i motori sono uguali per tutti, ciò che cambia è il software. Però, chiudiamo un attimino questa parentesi e concentriamoci sul prodotto. Si chiama Yanguang U8. Che cos'è Yanguang? Yanguang? Yanguang è una divisione di BYD che si occuperà di costruzione di fuoristrade elettrici, ma non fuoristrade elettrici qualsiasi, fuoristrade elettrici davvero performanti. Pensate, quattro motori, uno per ogni ruota, e questa è la chiave di svolta di tutta la motricità di quest'auto, di questo fuoristrada che vedremo adesso bene in video, vi spiego due o tre cosine, e va a strezzare l'occhio al classe G elettrico, facendo bene o male le stesse cose, avete visto, no? Quando si girava su se stesso e tutte queste cosine qua. Però, mentre il classe G verrà commercializzato tra un paio di anni, l'oreggio è pronto, è già definitivo, praticamente stanno facendo di testa e verrà lanciato entro la fine dell'anno. Ecco, questa cosa mi fa molto paura, perché vi fa capire quanto ormai sia importante e facile costruire una vettura se hai il know-how tecnologico per farlo, informatico per farlo, più che fisico. Però detto questo, guardiamo le caratteristiche di questo super fuoristrada. Più di mille cavalli, ma chi se ne frega, un motore elettrico per ruota significa poter gestire a livello millimetrico, mille volte al secondo, con la precisione di controllo di un millesimo di secondo, la coppia su ogni singola ruota e veicolarla, non tramite giunti, non tramite differenziali, ma direttamente. Tutto questo scarica più di mille cavalli per terra, la coppia siamo lì lì, ma dà la possibilità di fare alcune cose particolarissime, gestire il movimento indipendente di ogni singola ruota, vi può far fare delle cose curiose, come girarvi addirittura sull'asfalto di quanto volete. C'è talmente tanta potenza che si contrasta l'attrito che si genera sull'asfalto, ma questo è nulla. Si può avere un veicolo elettrico, un fuoristrada elettrico, capace di superare pendenze di oltre 32 gradi, tantissimo su un fondo, come la sabbia, è da fuori di testa e si può avere un veicolo che, come state vedendo in questo momento, grazie a una costruzione in totale tenuta stagna IP68, può non solo guadare, ma galleggiare nell'acqua utilizzando le ruote come fonte propulsiva per muoversi, dare direzionalità da fuori di testa. Ma la cosa più devastante è vedere questo SUV fare una cosa particolare. In un test che state vedendo a velocità autostradale a 120 km orari viene fatta esplodere una gomma, viene fatta sgonfiare istantaneamente, quindi calo di pressione da quasi 3 atmosfere a 0 in un millesimo di secondo e succede una cosa curiosissima, guardate la vettura come continua a procedere dritto. Come mai? Come riesce a fare questa cosa? Beh, nel momento esatto in cui la vettura rileva che c'è qualcosa che non va su una o più ruote e questo avviene con una precisione, con un tempistico, un timing di un millesimo di secondo, automaticamente sulle altre ruote rinvia coppia per contrastare momenti di imbardata e di conseguenza procedere dritto, quindi anche massima sicurezza. Però qua, al di là di tutte le spipolate sull'arrivano i costruttori isiati, se abbiamo aperto le porte alla Cine, tutte queste cose, andiamo ad analizzare come in questo mondo che sarà dominato dalla trazione elettrica, tutto questo può presentare e anzi può offrire una vera figata. Diciamolo pure, una vera figata. Dimenticatevi tutto il sistema elettrico, ma pensate alla propulsione elettrica. Avere un motore su ogni singola ruota svincola da tutto. Non abbiamo più un motore endotermico che passa da un cambio, il cambio passa a dei rimandi, i rimandi vanno a un differenziale, un differenziale, vai semiassi e tutte queste cose. Via, zero dispersioni. Tutto funziona e arriva istantaneamente. Nel momento della richiesta è già per terra. E questa cosa è incredibile. Vi permette appunto di veicolare la coppia al meglio, non solo in condizioni dove serve aderenza, ma anche aderenza per arrampicarsi, ma anche in condizioni di cornering, perché sì, è vero, c'è più peso, ma questo dà la possibilità di creare un torque vectoring ineguagliabile, impareggiabile, mai esistito. Infatti anche in uno steering pad di neve quest'auto, questo SUV, questo fuoristrada, riesce ad ottenere una velocità di percorrenza del 10% maggiore a una variante analoga a benzina, diesel, quello che volete. Questo perché il torque vectoring viene gestito in modo diretto. La cosa che mi ha sorpreso poi vedere nei dati tecnici, nelle specifiche, che avere dei motori elettrici così prestanti su ogni singola ruota poi dà accesso anche a delle possibilità di recupero di energia, ma soprattutto di recupero intelligente. Perché in un caso di fail, di fallimento totale, sia del gruppo sterzo, ma anche dei freni, la cosa che mi ha impressionato è sapere che questo fuoristrada riesce a fermarsi da 100 km orari in 40 metri. Ora, momento, già è difficile vedere fuoristrada che riescono a fermarsi da 100 a 0 in 40 metri con i freni. Una cosa del genere, una cosa così tanta del genere, così pesante, perché comunque il peso sarà vicino alle 3 tonnellate, che riesce a fare questo senza freni ma solo con il recupero, mi ha fatto capire che qua si apre un mondo di possibilità. Tutte queste caratteristiche sono semplicemente definibili via software. L'unico limite che ci si può porre davanti a qualcosa del genere è semplicemente le possibilità creative di uno sviluppatore o di un'idea. Ecco, questo è sicuramente un qualcosa di molto interessante e fa capire di come in certi determinati ambiti la motricità, non mi interessa la mobilità, la motricità elettrica è davvero inarrivabile, non solo efficienza maggiore ma controllo maggiore. Pensate banalmente anche al controllo di trazione su un fuoristrada del genere. Nel mondo tradizionale, quindi con un motore endotermico e tutta la parte calda che abbiamo visto, succede questo. Siamo in condizioni di scherza aderenza, siamo su neve, pattina la ruota posteriore sinistra, cosa succede? La ruota posteriore sinistra inizia a pattinare e inizia a girare. C'è una bella ghiera dentata con questi dentoni enormi dell'ABS che inizia a rilevare che sta girando più velocemente. Questo segnale arriva in centralina e la centralina dice oh no, mismatch tra la velocità della ruota posteriore sinistra e tutte le altre. Dobbiamo attuare una correzione. Allora cosa facciamo? Servo freno, attivati e attiva il servo freno. Potenza frenante, allora da potenza al circuito idraulico. Il circuito idraulico deve spingere poi il fluido o meglio deve dare pressione al fluido idraulico che deve arrivare alla pinza posteriore. La pinza posteriore deve gonfiarsi, deve spingere il pistoncino e il pistoncino deve fare attrito sulla... deve spingere la pastiglia che fa attrito sul disco freno. Intanto la ruota ha iniziato a girare abbastanza velocemente o comunque quel tanto che basta per accumulare energia cinetica, energia cinetica che va dissipata quindi c'è anche un momento nella frenata. Questa frenata poi crea uno scarto differenziale che manda di là la coppia. Tutto questo chiaro avviene non vi dico un decimo di secondo però in un mezzo secondo pensare che tutto questo su un motore elettrico e in questo sistema avviene in un millesimo di secondo perché la velocità della ruota o comunque di tutto quello che accade è controllata ogni millesimo di secondo significa che la vettura non fa neanche tempo a dire sta pattinando la ruota non ci riesce neanche dice che ha già tolto potenza al motore già alla base quindi senza aspettare manovre ricorsive con la frenata dissipando poi l'energia cinetica creando uno scarto differenziale da un'altra parte perché non è che per rallentare una ruota o due ruote si toglie potenza al motore si lo si fa ma ci vogliono secondi quindi è davvero incredibile tutto questo su un veicolo che è annunciato pronto non lo so tutto questo mi lascia sbalordito da una parte senza speranza dall'altra e soprattutto ci rendiamo conto che ci troviamo in una fase storica dove c'è Mercedes quindi non l'ultimo arrivato che sta sviluppando il classe G che forse ha meno caratteristiche tecniche meno features tecniche di questa di questo fuoristrada che ci sta lavorando da anni e sarà pronto tra un paio di anni loro non si sono svegliati ieri perché ovviamente questo segue piani industriali però sono arrivati l'altro giorno e tac hanno già pronto qualcosa che funziona adesso non lo so Rick e siccome non lo so quasi quasi vi invito a commentare qua sotto fatemi sapere un po' che cosa ne pensate separando l'invasione asiatica comandata più o meno dalla politica dalla motricità elettrica di cui io sono grande fan non sono fan della mobilità elettrica ma sono fan della motricità elettrica perché dove c'è qualcosa che funziona meglio rispetto a prima è inutile andarci contro però fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video sempre su Automoto ciao 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 ciao